salve amici e bentornati sul mio canale oggi si torna in mountain bike e si torna al TTC ma un percorso diverso, andiamolo a vedere ma prima sigla! indovinate, nuovamente in ritardo come sempre, ecco lì là che mi stanno aspettare vabbè io so quello che fa tardi e che va piano, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti buongiorno a tutti ciao 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 ciao